Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali che troverete oggi in edicola l'incontro che c'è stato ieri tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Un incontro chiarificatore nell'ambito del quale Beppe Grillo ha rinnovato la sua fiducia a Luigi Di Maio. Ha detto che lui il capo politico non si discute, io gli starò più vicino. E soprattutto ha lanciato il rinnovo di un contratto di governo con il Partito Democratico. Naturalmente questo non ha messo a tacere tutti i malumori nell'ambito del Movimento 5 Stelle. Naturalmente ci sono ancora voci contrarie, però sicuramente ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la leadership del Movimento. Si parla naturalmente anche dell'Ilva di Taranto, è ripresa la produzione e quindi adesso può partire quella trattativa con il governo. C'è anche un'intervista al Premier Conte che fa il punto su questo, poi la vedremo insieme. Si parla però anche di due argomenti importanti di cronaca, innanzitutto il maltempo perché sono davvero tanti i danni al nord. Ci sono regioni con allerta rossa, in particolare la Liguria, il Piemonte e la Calabria. E poi si parla delle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Domani è la giornata internazionale, ieri sono scese in piazza tantissime donne in diverse città. Allora partiamo dal Corriere della Sera, titolo principale lo vediamo insieme. Grillo, Blinda e Cinque Stelle. Di Maio è il capo, ma l'asse è con il PD. Orlando, rischioso, fari separati in casa. Morra che dice meglio il Movimento senza leader. Ancora, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, vedete questa fotografia che ci racconta la piazza a colori, quel cammino partito 24 anni fa. Queste sono le immagini della manifestazione organizzata a Roma dal Movimento, non una di meno, dicevamo, contro la violenza sulle donne. Proprio ieri purtroppo è arrivata una notizia di un nuovo dramma, di un nuovo delitto. Proprio nella giornata contro la violenza, sono incinta, ti amo e lui la uccide. Per quanto riguarda la questione del maltempo, eccola qui. Allerta al nord e in Calabria, frane e sfollati, paura lungo il Poggio. È prevista la piena e a Venezia, dove appunto è tornata l'acqua alta. Andiamo a vedere l'apertura della Repubblica, eccola qui. Governo avanti tutta, intervista a Conte, quella appunto di cui vi parlavo prima. Il Premier fiducioso, buona l'idea di un nuovo contratto dopo la manovra. Yousculture non è in agenda. Mittal disponibile a restare a Taranto, posto tre condizioni, ma non escludo l'intervento pubblico. Grillo che affianca Di Maio e rilancia il patto con il Partito Democratico. Ci sono progetti bellissimi. Grillo ha detto non siamo gli stessi di dieci anni fa e questa ha detto una cosa meravigliosa. Ragazza incinta, uccisa nel giorno contro il femminicidio, delitto nel Parermitano, mentre a Roma migliaia marciano contro la violenza sulle donne. Andiamo a vedere l'apertura della stampa. Eccola qui, Movimento 5 Stelle. Grillo, commissaria Di Maio. Ilva, governo al lavoro per ridurre gli esuberi. Rabbia a Taranto. Basto esperimenti sulla nostra pelle, perché naturalmente c'è ancora tantissima preoccupazione tra i lavoratori e tra i sindacati. Si parla anche però di Alitalia. Rischia di fallire la cordata delle ferrovie. Non chiede proroghe. Domani i tre gestori al Mise. Questo lungo incontro tra Grillo e Di Maio. Rilancia il rilancio dell'accordo a sinistra. Un errore. Non correre con il PD in Emilia. E ancora il maltempo. Fanno paura, vedete questa fotografia che racconta bene quello che sta accadendo. I fiumi in Piemonte e in Liguria. Andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero. Eccola qui. Niente alleanze, ma governo avanti. L'intervista Di Maio oggi troviamo sul messaggero, poi la vedremo. Contratto fino al 2023 in Emilia da soli come antilega. Bis di Raggi, lei non l'ha chiesto il soccorso di Grillo. Luigi resta leader, ma sì ai progetti con la sinistra. Conte che riscrive l'agenda. Rimane il rischio voto, quindi ci sarebbe ancora preoccupazione da parte del Premier per la situazione. La crisi dell'acciaio, Ilva, si tratta per dimezzare gli esuberi capitali pubblici per il salvataggio. E poi ancora una notizia prettamente romana, siamo sul messaggero. Roma in cubo rifiuti, la regione è pronta a commissariare la Raggi. Andiamo a vedere anche l'apertura del sole 24 ore. Eccolo qui. Riforma, eccola qui. PIR con casse e fondi. Pensione, manovra 2020, regole meno rigide, possibile investire sui più piani. Spunta la proroga per il bonus verde. I PIR sono i piani di risparmio. E poi ancora fondi infrastrutturali, nuovi protagonisti. E si parla di Exilva, piano con incentivi green. Andiamo a vedere anche l'apertura del fatto quotidiano. Eccola qui. Si parla del Movimento 5 Stelle. Avanti con Di Maio, ma anche con il Partito Democratico. Grillo raddrizza i 5 Stelle. E forse salva il governo. Difende il Conte 2. Apre alle intese sui programmi. Nelle regioni spinge per un movimento più collegiale. E striglia tutti. Parlate di ambiente e di innovazione. E ancora Franceschini, ministro della Cultura. Il fatto quotidiano, facciamo le riforme e l'esecutivo durerà. E poi ancora Taranto, dopo il confronto a Palazzo Chigi. Conte trattiene Mittal, ma si riparte da capo. Andiamo a vedere anche l'apertura. Eccola qui del giornale. Non li sopporta più il Vaffa di Grillo e Grillini. Non rompete il fondatore e commissaria Di Maio. E sbotta contro i suoi. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. E riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa. Siamo alle prime pagine, in particolare a quella di Libero, che titola Si ride, torna a Grillo. A Di Maio serve il badante, il comico fondatore e commissaria il liderino in minaccia. Mi occuperò di più del partito, ma c'è poco da fare. Non si può rianimare un malato terminale come i pentastellati. Andiamo a vedere l'apertura del manifesto dedicata alle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Ribelle il titolo che troviamo su questa fotografia. Più di 100.000 a Roma per la manifestazione di Non Una Di Meno da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Collettivi, consultori, centri antiviolenze e spazi femministi da tutta Italia contro la violenza maschile di genere. L'ultimo femminicidio poche ore fa nel Palermitano. Le donne in piazza in queste ore in tutto il mondo. Poi si parla di migranti perché c'è stato un nuovo naufragio a Lampedusa. Un barcone si è ribaltato, almeno 20 dispersi. La Ocean Viking verso Messina. Apertura del tempo. Eccola qui. Un complotto dietro il Doccia Gate. Impedivano a Conte di fare pipì. La replica di Palazzo Chigi getta ombre inquietanti su un caso particolare di cui si occupa il tempo. Andiamo a vedere la verità. Eccola qui. Si stringe il cerchio attorno al Giglio Magico. Sotto inchiesta anche lei di Leopolda. E poi il ministro Fioravanti che dà la giustificazione a Sardine. Sotto odio. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'avvenire. Eccola qui. Cambiamo un po' i toni. La vita e la pace. Il Papa in Giappone richiamo su tutela dell'umano e no alle armi nucleari. Poi la denuncia di flagelli sociali, competizione esasperata, bullismo e suicidi. Conclusa la visita in Thailandia. Francesco è giunto a Tokyo. Oggi a Nagasaki e a Hiroshima. Quindi una visita importante per Papa Francesco in queste ore. Andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani per cercare di approfondire quelli che sono gli argomenti di oggi. E partiamo appunto dalla questione dei 5 Stelle. Volevo partire subito dall'intervista che troviamo a Luigi Di Maio. Eccola qui sul messaggero. Legge elettorale senza di noi niente accordi tra Dem e Lega. Il leader in Emilia da soli sono i 5 Stelle, l'anticarroccio. Governo avanti fino al 2023. Con i poteri speciali raggi farà di più. Un bis. Non me l'ho mai chiesto, dice Luigi Di Maio. Se leggiamo appunto una parte di questa intervista. Il punto in cui gli si chiede se cambierà lo statuto. Lo statuto è già stato cambiato. Dice che sono dieci anni che si dà il movimento per morto in difficoltà. Ma noi siamo sempre in piedi. Stamattina con quell'incontro abbiamo dimostrato che certe presunte notizie sul rapporto tra me e Grillo erano fake news. Ci sarà una grande riorganizzazione. Annuncia Di Maio. Fra 15 giorni con un team del futuro. Nascerà il primo organo politico dei 5 Stelle. 20 persone che mi affiancheranno. Grillo dice che adesso le starà più vicino. La sta commissariando. Gli viene chiesto. Significa che ora c'è bisogno del contributo di tutti. Io chiedo a tutti di stare in prima linea. I territori hanno bisogno di noi. Tutti dobbiamo impegnarci in questa fase. E come sempre non mancherò. Anche oggi sono in Sicilia. per stare vicino alle popolazioni colpite dal maltempo. E poi per quanto riguarda le elezioni in Emilia. Dice in Emilia siamo aperti al lavoro delle liste civiche che vorranno sostenere il nostro progetto. Lunedì la mattina sarò in Calabria. Il pomeriggio in Emilia per parlare con i territori e i nostri attivisti. Gli iscritti si sono espressi perché gli era stato chiesto se ci sarebbe stato un nuovo voto su Rosso per chiedere un accordo con il Partito Democratico. Chiude la porta Bonaccini dunque. E lui risponde il nostro programma è patrimonio di tutti. E poi appunto per quanto riguarda la durata del governo dice per me la durata è quella naturale della legislatura. Ebbene che il contratto sia legato anche a un calendario con le cose da fare come e quando è importante che si riuniscano in un tavolo i capigruppi per definire un crono programma di lavoro sul contratto. Per quanto riguarda in sintesi il fondo Salva Stati dice Salvini e Meloni dicono bugie primi a sposare battaglie sovraniste siamo stati noi. E sullo scudo penale per l'ex Lilva dice non commento i se ma prima vengono i 10.000 lavoratori a rischio. Questa è appunto una parte dell'intervista che trovate oggi sul Messaggero a Luigi Di Maio. Per quanto riguarda sempre le questioni del Movimento 5 Stelle siamo sul Corriere della Sera. Si è parlato di Di Battista in questi giorni di un suo possibile ritorno. Di Battista per ora si defila, il leader scettico sulle coalizioni si prepara a tornare in Iran e riprendere il suo viaggio di lavoro ma resta una carta. Nel futuro una sua guida non si concilia con questa fase spiegano alla Casaleggio Associati quindi diciamo che la sua ipotesi sarebbe stata almeno per il momento accantonata. Sempre per quanto riguarda le questioni in casa Movimento 5 Stelle andiamo però sulla stampa dove troviamo un'intervista a Roberta Lombardi. Eccola qui l'esponente Grillina dice Coedem c'è una strada da costruire insieme Beppe ferma il sovranismo basta uomini soli al comando. E appunto vediamo che cosa dice a questo proposito credo che Beppe abbia soprattutto dato un'indicazione chiara a chi come Luigi pensava che il Movimento potesse incarnare la terza via e quel progetto essere fallito Di Maio resta il capo politico anche perché un capo politico serve per legge ora sarà fondamentale eseguire quel processo di riorganizzazione che toglierà un po' di responsabilità a Luigi non può fare tutto da solo non è appunto Mandrake questo quanto dice l'esponente del Movimento 5 Stelle ma c'è un'altra intervista vediamo se riesco a recuperarla questa non è che riguardava appunto sempre i 5 Stelle diciamo che restiamo comunque nell'ambito dell'argomento perché per parlare appunto della questione dell'Emilia Romagna delle elezioni l'offerta del Nazareno per difendere l'Emilia dite sia a Bonaccini vi cediamo la Calabria ora i Democrat tornano a sperare in un accordo per la Regione Rossa Beppe favorevole no dei 5 Stelle locali il Ministro degli Esteri appunto Di Maio che dice patti solo con liste civiche ma su di lui pressing di spadafora e fico per un'intesa quindi diciamo appunto che per quanto riguarda la questione Emilia Romagna dovrebbe essere comunque stata chiarita ancora passiamo a parlare volevo farvi vedere eccola qui scusate c'è un po' di confusione sulle pagine questa mattina l'intervista a Conte che troviamo sulla Repubblica Conte Mittal rimane ma non escludo l'intervento pubblico non cadremo a gennaio vediamo appunto una parte di questa intervista Giuseppe Conte è sicuro che a gennaio non ci sarà la crisi di governo d'accordo con Di Maio sulla necessità di definire un nuovo programma anzi un cronoprogramma ma richiama agli alleati basta lite e più concentrazione soprattutto sui nodi più urgenti come l'ILVA su cui ritiene di essere vicino ad una soluzione Mittal e disponibile a tornare sui suoi passi si sente un politico ma non un professionista della politica non ha alcuna intenzione di candidarsi alla guida dei 5 Stelle che ora si trova in una fase di transizione da cui uscirà presto dice a Zingaretti che il suo esecutivo un'anima ce l'ha e boccia l'idea di approvare lo use culture per gli immigrati questo in sintesi alcuni dei temi che troviamo all'interno dell'intervista dalla quale però volevo farvi ecco qui un focus sulla questione di Arcelor Mittal visto che se ne è parlato tanto in questi giorni il signor Mittal mi ha dichiarato di essere disponibile a tornare sui suoi passi e investire nello stabilimento mi ha detto che è rimasto molto colpito dalla mia visita a Taranto gli ho detto che sono pronto a credergli ma a patto di realizzare tre obiettivi rafforzare il piano di risanamento ambientale indirizzare lo stabilimento verso la transizione energetica introducendo le più sofisticate tecnologie pulite e assicurare un più elevato livello di occupazione possibile gli ho spiegato che in concomitanza si avverrà il cantiere Taranto un ventaglio di progetti che rilanceranno l'intera città e ristoreranno con gli interessi la comunità locale dai danni che hanno sofferto finora bene è tutto per la rassegna stampa la linea adesso a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo sì buongiorno questa è la situazione solo nella prima parte della giornata di oggi l'intensificazione dei fenomeni sul medio basso tirreno vedete siamo già in zona fra il giallo e il rosso come colore quindi precipitazioni particolarmente abbondanti e poi piogge deboli o moderate su tutte le altre regioni ancora i fenomeni intensi sulle zone di nord ovest fra Piemonte e Val d'Aosta un po' meno in Liguria però vedete che ancora siamo sul blu quindi ancora ancora ci piove seconda parte della giornata di oggi vediamo che ci sono ancora dei fenomeni io se ricordate che vi ho detto insomma nella prima parte della giornata sì ancora i fenomeni intensi poi qui il miglioramento c'è e certo si riduce la zona ma ancora ci dobbiamo aspettare a questo punto fino a sera dei fenomeni localmente intensi poi piogge che diventano più deboli sulle zone di nord est diciamo il resto del nord migliora un po' in Toscana ancora i fenomeni molto intensi che prendono un medio basso versante tirrenico un po' meno la Sicilia ma più direttamente Basilicata Calabria anche la Campania insomma la zona del maltempo si è spostata proprio sul basso tirreno e qui ancora insiste la tendenza lo sviluppo è piuttosto rapido perché per la giornata di domani al nord rimane molto poco ma ancora guardate qualche pioggia residua sul confine fra Piemonte e Francia e poi qualche pioggia sull'Appennino settentrionale sul medio adriatico piogge moderate inizialmente qui veramente poi in serata tutto tutto cambia però vedete che ancora abbiamo questa striscia di precipitazioni forti poi finiscono sul mare quindi lì non fanno danno ma qui siamo ancora in Basilicata in Calabria e sappiamo che lì insomma anche nei giorni scorsi piogge forti e danni ci sono stati vediamo anche la giornata di martedì in cui veramente rimane poco o nulla perché il miglioramento c'è quindi lunedì giornata di passaggio verso un tempo decisamente più stabile le minime i valori minimi di questa mattina piuttosto elevati perché i venti sono stati e sono ancora meridionali soltanto alcune zone vanno sull'il verde e il livello dei diciamo il confine dei 10 gradi per intenderci guardate sulla piana europadana anche in Piemonte temperature sopra i 10 gradi come minima per fine novembre sono veramente elevate chiudiamo con lo stato dei mari ancora diciamo piuttosto forte come motondoso il giallo è un mare molto agitato e prende il canale di Sardegna a parte le Baleari ma prende anche guardate lo Ionio i venti sono intorno scirocco molto forti ma se va bene i mari sono molto mossi anche loro si calmeranno via via che il tempo migliorerà se volete il prossimo appuntamento subito prima dalle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale di Sardegna di Sardegna di Sardegna di Sardegna